La seconda di Lesbo è uscita dalla seconda di Lesbo, buono, con 53 milioni di recitamento che ha avuto la scuola. La scuola sta fingendo in maniera indiavolata, è uscito da Nascari, veloce, chirurgico, preciso con le traiettorie che doveva fare. Il 532, il tempo di Sean Clark, aspettiamo l'arrivo di Martin. Il 532, il tempo di Sean Clark, aspettiamo l'arrivo di Martin. Il 532, il tempo di Sean Clark, aspettiamo l'arrivo di Martin. Il 532, il tempo di Sean Clark, aspettiamo l'arrivo di Martin.